Sono qui in Malesia a Malacca. Il video che sto facendo oggi è in merito a questo, alla rottura di schemi. Se mi conosci un po' tu sai che amo il silenzio, amo i posti tranquilli, amo meditare, eccetera eccetera. Ma come sarebbe rompere lo schema? Ebbene oggi mi sono proprio occupata di questo, ti farò vedere una cosa che ti sconvolgerà. Questa non è la cosa più trash che hai visto nella tua vita? Ebbene sì, ho preso uno di questi. Re-show in bicicletta con tutti i pupazzi colorati e con la musica sparata a palla. Ebbene è stato veramente divertente perché sicuramente non era la mia situazione comfort e non era la mia situazione ideale. Mi metto di lato così non ti tolgo la visuale perché ce ne sono di tutti i tipi. Qui c'è anche quello con Frozen, dov'è? Che è qua? Poi c'era anche quello dei Minions, bellissimo. Ebbene, ebbene, è stato molto divertente. Non ho fatto sicuramente una cosa che fa parte delle mie cose preferite, delle mie azioni preferite, di ciò che amo fare. Ho fatto qualcosa che andava completamente fuori dalla mia zona di comfort. Ho rotto uno schema e questo sicuramente mi ha permesso di aprire maggiormente la mente. A volte anche le cose molto semplici che noi facciamo, che magari ci portano ad andare un pochino oltre quello che normalmente faremo, ci permettono veramente di fare un piccolo clic, un piccolo salto e a volte anche un grande salto. L'importante è continuare a stimolarsi. Ti auguro una bellissima giornata e a presto. Ciao!